Non era contento il signore, no, no, e io qui, lui è a casa. Signora, ma queste devono stare lì là. Ma come vanno a stare lì là? Che abbiamo uno spighi stasera. Eh, lo so, lo so, signora. Ma come si vede? Abbiamo un po' da riparare. Lo so, signora, che abbiamo invitato stasera. Però, lei che ha detto può andare a cambiarsi che quasi stavo tutto io, non si prego. Ma non andò dove sedersi? Ma certo, c'è il divano, signora. Dov'è il cano? Che fine ha fatto il divano? Eh, il mio maricolo è andato in tittoria. In tittoria? Sara, ma secondo me quell'uomo lavora troppo. Eh, lavorerà troppo, ma intanto per colpa sua, io adesso sono costretta a fare una cena elegante. Qui, non deve essere pieni da giardino. Vabbè, queste le posiamo, non si preoccupi che andiamo di là a prendere la postrona in camera sua. Ci avevo pensato pure io, ma è sparita anche quella mentre ero in bagno. Ah sì? Eh. Pure quella? Eh. Non avrà portato anche la postrona da tinta o? Eh, spero di no. E di più, anche lui e Marco sono spariti. Pure? Eh. Ah, no, 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 no. Se vuole il mio parere, qui c'è qualcosa di losto. Si sono comportati in modo molto strano. E l'ho notato pure io, l'ho notato. Eh, a proposito, non sapete che fine ha fatto l'armadio, quello vecchio che dovevamo dare? Quello con la vostra scazzata? Eh, quello che dovevamo dare in beneficenza. Eh, ma quello dovevano venire a prendermi il tuo scout? Eh. Eh, non sono mai venuti. Eh, che voleva signora? Che me lo portate io con la tua macchina? Non potevo portarmi. La mia macchina è piccolina. Eh, sì, sì, calmi, calmi. Adesso, sai cosa? Facciamo, prendiamo giusto e vediamo di capire insermate ai nostri immobili. Va bene, va bene, secondo me la poltrona c'è. Eh, andiamo a vedere. No, ma non c'è io, la poltrona, se ne accorta che non c'è. Ma io non ci vado a stare. Ci vado a stare. Ma dovevete? Questo gliel'ha a delci a quel mostro lucidito di cameriera che abbiamo. Volevo l'orologio. Comunque sei un lamento. Due mobili piccoli abbiamo traspoltato. Ma due mobili? E gli lamenti da quando sei nato. Cioè tu quell'armario a 12 anni, tu quello che... Ma va, 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 l'armario a 12 anni. Ma poi secondo te, volevo lasciare quella povera Cristal, senza un mobilo a casa. No, che doveva dispi... Che doveva dispi... Doveva spostare i vestiti da una parte o l'altra senza... Di spari. No, di spari. Scusa, l'orgogno è una pellevata. Ah, che cosa penserai? Pamela, quando metterà la casa. Ma che pamela, ancora non se ne accorge tra i quadri, tra il messaggio, tra il fatto che tutta... E sei di noi, che sei... Ma non c'è la mia bella... Puoi scommettere che se ne accorge? Puoi scommettere che se ne accorge? Cento, forse... Ancora, non ti scommetti. Vabbè, puoi dire? No. Vabbè, c'è. C'è, c'è. C'è, c'è, c'è. Oh, e poi ti dico una cosa, non pensavo di avere un suocero come buonfiere. Ah, e me fosse meglio un buonfiere come suocero, ma mi sta bene così. Perché ti ho detto, un suocero... Non lo so. Eh, lo vedi? Comunque lo conoscerai molto meglio questa sera. A cena. C'è vero la cena, me l'ero dimenticato completamente. Ma tu, tu, tu infierisci, tu metti il coltello nella piega, però ti capiteranno anche a te. Cosa? Sì. A me queste cose. Come faccio? Mi deve aiutare. Mi deve... Come faccio? Io sono il palito di Pamela e contemporaneamente il fidanzato di Deborah. Io uno sono. Eh, ma che parlo con Pamela? C'è questo? Sì, ma... Ma no, c'è... Sì, tu li devi dire di Deborah, tu li devi dire. Sennò che ti voglio, in tutta questa vita che è bella. Eeeh... Non le vede il genere mai. Le altre volte erano cose così leggerine, un paio di mezzi, due quadri, vabbè. Questa volta, mio caro, questa volta, e stai attento a questa volta, è allarme rosso. Ma rosso, rosso. Io che credevo che fosse la Maria Parca. Ah. Presta lì, mi stai tenendo. È una ferita al... La Gerofosa. La Gerofosa. Vabbè? La Gerofosa. Ecco, la lasero tutte le salone. La Gerofosa. Quella è la. Cioè, almeno non avessi preso quel maledetto il 76. Ma il 34, guardate. No, il 76. Però, ah, ma... Però, eh? Però io adesso è sempre... Cospettissimo. Una scenata. Cioè, tu ti immagini l'auto che scopre, io salgo, o britero? Ma che? Pizzi per biglietto. Pizzi per biglietto. Pizzi per biglietto. E là si stagliava la nebbiolina fuori. Era il 12 di agosto. Nebbiolina più gemellina. Nel Gerofosa. Che c'è? Nebbiolina più gemellina. C'è anche l'altro c'è. Il 12 di agosto. Non è che... Preciso? Ma solo è stato l'uso. Eh, quello è lì. Una visione angelica. Mi è comparso davanti a mio... Beh, si stagliava lì sul posto numero 4 Luiz. Vicino al finestrino. Io mi sono stato accanto e mi ha detto... Tesoro, questa è la volta buona che tu potrai sconvolgermi la vita. E lei con quel cappellino rosso di stivali gialli. Ah? Mi ha fatto... Come era vestita? Con i miei figli grossi stivali gialli. Ma giusto, c'era la nebbia. E per avere qualcosa di come... Mi rendo conto. Mi rendo conto. Vabbè, sempre... Io comunque là ho capito che c'avevamo qualcosa di grosso in comune. Il grosso lo portavo io e le portavo in comune. E avevate tutti e due di stivali di giallo. Non c'è, non vale lo spiritoio che mi ha appeggiato. Questa è l'occasione che mi cambiava la vita per un momento. Allora, la prossima volta, cazzo, prendi un tassi. Ora io voglio sapere perché non mi avete detto che il padre di Deborah faccia piccoli piere. Io l'avevo preso per il suo fidanzato. Poi uomo, deve essere stato così imbarazzato. Ad ogni modo, ho detto alla signora Lina di mettere un posto in più. Bellissima idea, ma come fai? Bella, bella, secondo me è il bambino. Ma che stai dicendo? Sì, perché la cena non gli è infelice. Ma dai, io ho già detto alla signora Lina di mettere un altro posto. E comunque l'ho già invitato. E se non possono le dire? Possono, possono, l'hanno già accettato. Ma lui non c'è? E vabbè, com'era proprio vera qui poco fa. E magari se ne è andata? Ma no, tornerà. Ma può essere che siete vatti? Ma no. Oh, malla mia. Io non vedo l'ora, non vedo l'ora. di conoscere gente nuova. Sarà benissimo conoscere gente nuova. Certo, con gli uomini dobbiamo conoscere gente nuova. Peccato che tu abbia scelto proprio oggi per mandare a pulire il divano. Peccato che tu hai scelto proprio oggi di invitare due estratti. Tre. Che cosa tre? Ti sei rimenticato in poltiere. A proposito, la poltrona che ti ho fatto? Quale poltrona? Quella della camera da letto. Ma se ne avevano due. Ma infatti adesso c'è una cosa. Ho capito, la poltrona. Mi sembrava un gesto carino. Sai, era senza mobili. Tempura? Brava, inquilina. E io l'ho prestata una. Ah, capito. Mi sembrava un gesto carino. Anche il perfetto armario. Che c'è? Tra quell'uomo degli scout dove erano iniziato a prendersi come gli dandano o anche un altro. Ah, ma sono un paio altro che stai lì, regalo. Mi dovresti aiutare a vestirmi. Dovrei... Dove ti rende... Marco! La si... La si sentierà lì, della mia. La 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 la. La 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 la. La 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 la. La 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 la. Il bambino. Ah, ecco. Ecco là. E' bravo che sei, Marco. Ecco, ho fatto. Ah, grazie, Marco. Prego. E' un esperto più in pratica di... Lampiche. Bravo, lampiche. Comento che deve essere molto bravo a fare i suoi giuboli e i suoi lampo e solo quando è molto brianto. Oh, mio Dio. Che è successo? Ma sembra un po' strano questa stanza senza il libro. E gliel'avevo detto di non mandare gli vani in fuori. Ma non c'è niente di strano. Ti ho messo lì al giardino. Metteremo le sedine al giardino. Eh, ma... Caro, io sarò anche l'antica, ma in casa preferisco avere un divano che due sedie tubolari. E le tubolari sono delle loro in cui si vede quei chiari. E' un po' di nocce. Ho una meravigliosa idea. C'è un po'? Le presterò il mio divano. E che cazzo di lui? Te la metti? Ma no, grazie, grazie. Non ci vuoi accettare le donne. Stavolta non ci vuoi. Ma certo, che poi noi non lo siamo. Tanto saremo a cena. Eh. Ma no, tutto disturbo. Ma no, assolutamente. Anzi, lui e Marco possono portarlo attraverso il giardino. Ma non può sperare da un'altra. Eh, non è un po' di nocce. Ma come no? Si che passerà. È semplicissimo. Perché si. Si, perché le porte, le porte, tutto questo condominio. Sono in qual misura. Sono in condominio. Ma non siamo bravi. Anche perché l'avevo già fatto prima. Si, si, si. Si, due uomini, due. Tutta, nervoluzi. Vedi, che si a chi? Mi fa a chi, bravo, a chi? Si. E beh, allora, posso aggettare che non le fai troppo disturbo? Ma no, quale disturbo? Anzi, non ho problemi per me. È una piccola porzione di capiare della sua gentilezza. Ma beh, si. Da resto, a chi io le ho acquistato la mia latastrona? Vecchio, che vado a farvi un baglio. Perché l'acqua si sta facendo gelata. Luca? Sì, dobbiamo spostare. Che ti si parla? Il divano. E meglio spostiamo il divano. Sì, prendiamo il divano. Il divano, sì. Sì, sì, sì. Ma non possiamo prendere in due. Prendiamo il divano, ma affatto. Prendiamo il divano. Scappiamo da qua, prendiamo il divano. Comunque sarà troppo bello avere Marco come vicino di casa. Non sapevo che Marco traslocava. No, ma io non ho detto che trasloca Marco. No, siamo noi che traslochiamo, sì. Ma se lei è appena trasloccato, vuol dire che è già di traslocare di nuovo? Ah, forse lei è una di quelle persone che la vogliono cambiare, preferiscono la vita di zinga, di spostarsi continuamente da un posto all'altro. Eh? Mi scusi, ma che è passato qui? Sì, e dopo tutto può essere divertente. Una bella scintillante roulotte, tutta rossa e gialla, con l'ottone che brilla. Ma suo padre è stato citato? No, io non credo che lui era... Pensavo che potesse incidere sul suo spirito avventurotto, sa, a ruolarsi nei vigili del fuoco, e tutto il resto. Oh, no, no, no. A lui piacciono solamente in bala. Oh, capisco, capisco, contento lui. Comunque, e sono contenta anch'io, sono contenta che lui abbia accertato il mio invitaceno. Mio padre? Sì, certo l'ho invitato. Ah, è stato molto gentile da parte sua, ma lui si sente a casa solamente quando è in un'altra ferma di compiere. Oh, ma peccato che io abbia una bella tappetteria rosso fuoco. Ad ogni modo non si preoccupi, si sentirà perfettamente al suo agio, perché ci sarà tre volte negli in compagnia. Allora, Alfredo, e sì, tornerà in tempo per la cena, vero? Ma, scusi, chi è Alfredo? Il suo fidanzato, no? Ma io non ho mai detto che si chiama Alfredo. Il secondo nome è forte. Un, due, tre, un, due, tre, un, due, tre, un, due, tre. Dov'è che lo mettiamo? Al solito posto. Un, due, tre, un, due, tre, Guardi, guardiamo, giù e giù, giù e giù. Ah, così va molto meglio, però no? Eh, stavo pensando che io e lei abbiamo molte cose in comune. Ah, Alfredo. Eh, i nostri gusti coincidano perfettamente, perché lei ha scelto un divano molto simile al mio. Ah, lei dice. Eh, veramente mi sembra proprio il mio. Comunque caro, forse è meglio che tu vada a fare il tuo bagno prima che affino gli ospiti Se vuoi approfittare... Sì, sì, si! Dobbiamo il bagno! No, fermiamoci, fumiamo un cigaro Un cigaro, prima del bagno un cigaro Ma non l'hanno mai fumato? Non l'hanno fumato, prendiamoci un drink, una bottiglia di cinque cigaro E prima di fare il bagno Esatto, lo portiamo di là Ci siamo portati un drink Che cari ragazzi!